Un boato nella notte in Viali Crispi e Teramo ha fatto svegliare i soprassalti un intero quartiere. Questo a causa di un'esplosione sotterranea a poche decine di metri dalla stazione ferroviaria, che letteralmente è scardinato e lanciato a molti metri di distanza anche un tombino, uno scoppio per un cavo da 20.000 volts dell'Enel che ha portato ad un blackout dell'intera zona per diverse ore. Quindi si è sfiorata la tragedia anche perché i pochi automobilisti in transito a quell'ora, non vedendo alcun cartello di pericolo, hanno continuato a transitare sopra la vistosa crepa aperta sull'asfalto. Ma poi con l'intervento dei soccorsi la zona è stata subito transennata. Tecnici dell'Enel Distribuzione sono ancora al lavoro per chiarire le cause dell'esplosione e per ripristinare la situazione ed è per questo motivo che per l'intera giornata di oggi si circolerà su Via Crispi a senso unico alternato. Abbiamo avuto paura perché era sul tardi, mezzanotte 35, l'una meno 20 e abbiamo sentito questo boato fortissimo. Che anzi all'inizio pensavamo che fosse successo, scoppiato qualcosa dentro al ristorante perché è stata proprio una botta tremenda. Poi invece quando siamo usciti fuori io e la ragazza che eravamo in chiusura abbiamo visto fuori che usciva fumo e fiamme dall'asfalto. Nell'immediato siete rimasti senza corrente? Sì esattamente, anche perché ieri sera tutta la serata è successo dalle otto e mezza, la luce andava e veniva, è stata un continuo. Dunque ci siamo preoccupati perché non sapevamo né se fosse questo causa o della luce o del gas. Anche a distanza di quasi un chilometro si è sentito l'onadulto? Da circa 800 metri di qua e diciamo era verso mezzanotte e ho sentito dentro casa le porte che hanno fatto il casico Dundum. Ora questa è una zona terremoto per cui io pensavo o c'è un'altra scossa oppure magari mia moglie che è tornata a casa dal lavoro perché con il ristorante magari ritornano un po' tardi. E invece poi mi ha confermato che c'è stata questa esplosione dove non ho sentito il rumore ma sicuramente lo spostamento d'aria è arrivato nei vetri, nelle porte, creando quel tipico rumore che insomma il terremoto crea. Insomma qui c'è stato un po' un attimo anche con la situazione di ricordare i momenti in cui insomma siamo qui in questo momento.